Un dramma ha colpito il mondo del calcio e il Giappone. Nelle scorse ore è morto 32 anni l'attaccante Masako Kudo. L'ho annunciato il suo club, a cui hanno fatto seguito anche le altre società nel quale il giocatore aveva militato. Da quanto si è saputo, Masako Kudo è morto improvvisamente in seguito ad un intervento chirurgico al cervello. Nella sua carriera aveva giocato 4 partite con la nazionale del Giappone, 2 gol e aveva vinto il campionato giapponese nel 2011 con Kashiwa Reisol.